anzi speriamo di trovare qualcosa anche con cui siamo in disaccordo film is not only about storytelling but can sometimes be closer to poetry e questa è una frase che se io avessi letto decontestualizzato avrei pensato l'avesse scritta Herzog invece che anche lui anche da come l'hai letta tu suonava un po' Herzog questo inglese film is not only about storytelling come ben si evince insomma da questo bellissimo set io sono abbonato da sempre dal primo numero a notebook che è un servizio fantastico di sub abbonamento per Mubi perché credo che tu per ricevere un notebook debba essere abbonato a Mubi un surplus mi sembra di 35 l'anno ricevi a casa sono se non sbaglio due o tre numeri l'anno questo notebook un'interessantissima rivista di cinema molto molto a parer mio importante perché in realtà riesce davvero a parlare di cinema nella sua essenza e a costruire un ottimo percorso e un'ottima esplorazione su vari temi ma sempre estremamente interessanti senza cadere diciamo nel gossip o in altre cazzate che spesso si possono trovare su questo tipo di prodotti quindi intanto consiglio a tutti di farvelo perché è bellissimo l'unica roba un po' complessa sarà recuperare i numeri vecchi perché sono poche le librerie in Europa credo in Italia non lo so che hanno questo servizio io ne trovai una ad Amsterdam che aveva i numeri vecchi peraltro è molto interessante perché alcune hanno cover diverse quindi stavo per comprarmi al museo del cinema di Amsterdam gli stessi numeri che ho con l'altra cover vabbè poi non l'ho fatto perché ho riflettuto questo è forse il progetto di MUBI che preferisco in assoluto in questi numeri fantastici ci sono un sacco di cose e a partire dal numero 3 che è il quarto perché poi il primo è il numero 0 hanno introdotto questa rubrica bellissima noi ne abbiamo già leggermente discusso ma non approfonditamente che si chiama adesso perdonatemi parlo inglese molto male ma things a filmmaker should know cose che un filmmaker dovrebbe conoscere strutturato come una lista in cui viene chiesto a un personaggio che può essere un filmmaker può essere almeno qui c'è scritto potrebbero essere figure rilevanti nel cinema di vario tipo per adesso sono due registi molto forti molto preferiti so che non si dice vengono appunto raccolte queste sono 25 se non sbaglio cose che un filmmaker dovrebbe conoscere secondo la persona che ha stirato la lista che non per forza sono diciamo regole tipo i reel di tiktok che ti insegnano come fare i video come inquadrare la tazza del caffè per fare una bella foto ma sono idee ispirazioni sono anche secondo me modi per comprendere meglio l'autore che ha stilate anche per comprendere un modo alternativo rispetto a quello che ti viene insegnato a scuola o che appunto sono gli stilemi e le regole di cui sentiamo sempre parlare anche sui social appunto sono visioni assolutamente personali di autori che in anni hanno capito la loro direzione esatto e che peraltro è una direzione appunto che spesso non incontra il canone quindi neanche secondo me all'interno di quello che è un po' l'universo cinema alternativo non c'è quasi mai un consiglio di questo tipo trovi piuttosto studi sui film però poi ti chiedi non c'è niente di come vengono realizzati di cosa c'è dietro proprio perché probabilmente hanno anche meno impatto sull'editoria sulla critica in generale anche anche sull'aspetto accademico sono maverick diciamo sono filmmaker così fuori dagli schemi che i nostri preferiti assolutamente ma che non sono proprio la prima persona a cui chiederesti cosa vorresti insegnare ai filmmaker di domani o comunque agli altri filmmaker proprio perché sono personaggi che hanno una visione talmente tanto unica del cinema che secondo me in generale le persone sono restie a dire ok forse non chiediamolo a lui perché potrebbe indirizzare in una strada diversa rispetto a quella canonica e non si poteva non iniziare con Tsai Mingliang uno dei tre pesi massimi del cinema taiwanese l'ultimo rimasto perché Uzi Ausien si è ritirato purtroppo dolorosissimamente perché cosa ha l'Alzheimer non mi ricordo ha una malattia degenerativa orribile per cui non riesce più a fare film ha fatto The Assassin non l'ho ancora visto come ultimo nel 2015 Uzi Ausien si è ritirato Edward Young secondo peso massimo morto da diversi anni e rimane solo Tsai Mingliang che si ritirò anche lui dopo Stray Dogs ma ha fatto il miracolo come sempre tornando con un film meraviglioso che è Days autore che ha vinto anche Leone d'Oro non so se lo sapevi nel 94 nel periodo d'Oro di Venezia Viv Lamour se non sbaglio autore importantissimo interessantissimo ho visto tante cose sue anche piccole è un genio appartiene forse alla categoria appunto errata ormai è sbagliato parlare di slow cinema però appartiene a quel tipo di categoria Stray Dogs è un film fatto da tipo tre inquadrature durano quattro ore però sono veramente eccezionali quello che vorrei fare con te oggi una cosa un po' speciale per doppia visione perché in realtà ci esponiamo anche un po' come filmmakers e non solo come spettatori è leggerci questa lista sono punti brevi quindi non c'è da diciamo star qui troppo leggiamo un punto a testa e ne discutiamo vediamo un attimo che tipo di consigli ci può dare Tsai e che consigli può dare appunto a un pubblico inizio io Simo sei d'accordo? ma tu sei carico? sono carichissimo sei carichissimo perché la prima cosa che secondo Samy Linguang dovremmo conoscere è Bresson Bergman Orson Welles Akira Kurosawa punto non dice niente cioè non dice guardali è solo questo da subito dai il tono a quella che sarà una lista abbastanza particolare dato che cosa deve sapere un filmmaker se non il cinema cazzo i grandi autori del cinema e questa peraltro è una cosa importantissima perché spesso mi capita di sentire un'opinione del tipo che se un autore come Samy Linguang che fa solo cinema fa il suo lavoro è perché non è avvezzo al cinema classico non lo frequenta non lo conosce quando è esattamente l'opposto in realtà più vai fuori secondo me dalle regole canoniche del filmmaking più ti avvicini ai grandi classici agli autoroni c'è un motivo se tutti citano Fellini Orson Welles Kurosawa Ozu i grandi autori classici sono sempre presenti Bresson è uno dei più presenti in assoluto questa è una cosa meravigliosa Jasank ha fatto il suo primo film che è Pickpocket chiaramente prendendo lo stesso titolo del film di Bresson e io non posso che essere totalmente d'accordo peraltro questi autori tranne forse Kurosawa che conosco un pochino meglio devo ancora anch'io approfondirli a lungo Bergman ha fatto 200 film io ne ho visti un decimo quindi sarà un autore che voglio approfondire Orson Welles mi manca come ben saprai la seconda metà della filmografia e Bresson ho visto i film della storia del cinema devo approfondire quindi io sono contentissimo anche perché anche io sono nella tua stessa situazione cioè non ho mai visto niente forse ho visto più Orson Welles di tutti gli altri l'unico di cui non ho mai visto veramente niente è appunto Bergman perché ancora sono un po' in ritardo su quell'autore però è innegabile la grandezza di dire questa cosa perché a parte che Bresson dici si è il più citato ma è il più citato da un punto di vista di questi autori di questa tipologia di autori perché poi è un regista di cui ormai al giorno d'oggi non si parla quasi più e soprattutto ragionando sulla lista questa è una lista ma prendendo anche un'altra lista ovvero la lista dei migliori film nella storia del cinema di Sight and Sound che è stata redatta l'anno scorso ho visto che ci sono alcuni grandi autori che stanno indietreggiando all'interno della lista quindi stanno perdendo non tanto di interesse ma magari stanno svanendo un pochino dalla memoria dei critici magari dei critici moderni tipo per esempio la regola del gioco di Renoir è scesa tipo al tredicesimo posto ora non significa niente la posizione però avevo letto questo articolo che appunto si domandava come mai cioè cosa è successo per quale motivo fosse sceso sotto la top 10 e per quanto Bresson continui ad essere comunque sempre presente la mia paura è che se non si continuano a conoscere questi grandi autori se non si continuano a vedere presto verranno soppiantati da sicuramente altri grandi autori cioè sicuramente Scorsese pian piano arriverà in cima dato che comunque la nostra cioè questa generazione conosce di più gli autori degli anni 70 anni 80 piuttosto che quelli degli anni 60 50 però è giusto mantenere in vita l'idea che un filmmaker dovrebbe deve sapere la storia deve conoscere la storia del cinema deve conoscere gli autori del cinema non tanto doverla studiare sul manuale però questi grandi autori che hanno sconvolto il mondo li devi conoscere devi studiarli cioè non so come dire non solo ti devi guardare i film devi metterti Godard è un autore che non puoi solo guardare secondo me devi proprio studiarlo e approfondirlo ed è importante proprio perché non è che ti insegna qualcosa non è che ti insegna il lavoro però ti influenza innegabilmente proprio perché sono forse i maestri di certe tecniche oggi utilizzatissime anche da autori più sperimentali ti insegna proprio dove sta il cuore di certe cose secondo me quindi ad esempio io di Godard ho visto solo i più famosi voglio però studiare molto di più approfondire analizzare i film ma ci arriveremo ci arriveremo i film sono immagini del passaggio del tempo ok questa è più che vedi è proprio questa cosa interessante è una lista abbastanza semplice poi in alcune cose che dice ne avevo letto già un paio che mi cioè quando le leggi sempre sono cose banali no? è vero tenere ben presente in mente che il cinema ha il tempo dalla sua rispetto a tante altre arti tipo la fotografia tipo la fotografia tipo la pittura beh comunque c'è il tempo però non so come dire è molto no no la questione è che il tempo non passa il cinema è il passaggio del tempo il cinema ti permette di vivere il tempo a contatto con esso ti permette di essere lì è la cosa bellissima delle immagini ferme cioè delle immagini bloccate dei quadri che non si muovono che durano parecchio tempo e che ti fanno proprio pensare a questo ti fanno proprio pensare al passaggio di tempo infatti il montaggio è un tradimento quasi è un giocare un cercare di plasmare giocare ad essere dio con il tempo mentre appunto queste immagini più cioè come dicevi tu non l'ho visto però se in Stray Dogs sono tre inquadrature no non sono tre sono di più sono poche inquadrature che durano parecchio è proprio questo ti pone a confronto con la sensazione di passaggio del tempo e con la possibilità di vivere quel momento nella sua totalità e non frammentandolo all'interno del montaggio o all'interno del decoupage come si diceva quindi è una cosa che bisogna sapere perché ogni tanto ci dimentichiamo che questa è una componente fondamentale dell'arte cinematografica quando si pensa tanto alla storia non che la storia non sia importante che la narrativa non sia importante ma se hai scelto il mezzo cinematografico è perché quella è una componente la tua storia deve essere raccontata attraverso il passaggio del tempo deve essere accumulata adesso che non è la negazione di quello che diceva Hitchcock il cinema è la vita senza le parti noiosi certo è un approfondimento di quel tipo di ragionamento cioè di come le immagini proprio perché sono il passaggio del tempo possono essere manipolate per rimuovere le parti meno interessanti o approfondire cioè il cinema è la grandezza di poter guardare la storia di un uomo da quando è piccolo a quando diventa adulto in breve tempo sì nel poter assorbire tutta la potenza di una persona tutta la grandezza e la vita in poco tempo cioè il contratto in modo tale che ti arrivi tutto quanto subito poi ovviamente ci sono casi e casi iMath lo fa in modo molto più lungo rispetto a quanto lo fa Boyhood che invece è la contrazione della contrazione poi appunto sono consigli ora mi stavo pensando voglio evitare di fare ah no è vero è proprio così sono consigli però sono riflessioni che ti fanno ragionare cioè questa roba non l'avevo letto però da subito risuona dentro me come qualcosa è vero per il cinema anzi speriamo di trovare qualcosa anche con cui siamo in disaccordo film is not only about storytelling but can sometimes be closer to poetry e questa è una frase che se io avessi letto decontestualizzato avrei pensato l'avesse scritta Herzog invece che anche lui anche da come l'hai letta tu suonava un po' Herzog questo inglese film is not only about storytelling che significa i film non sono solamente sulla narrazione come dicevamo prima ma possono anche avvicinarsi alla poesia chiaramente qui bisognerebbe conoscere un po' di poesia io la leggo ma diciamo non posso permettermi di parlarne conosco gli strumenti base ma non sono così ferrato ma credo per quello che è il modo in cui io vivo la poesia di più o meno capire cosa intende la poesia è un modo elaborato di dire anche cose semplici o di raccontare semplicemente dei dettagli di piccole cose o anche un modo per complicare di ingarbugliare tante cose o di racchiuderne tante appunto in una forma molto specifica che non è necessariamente scorrevole può essere tante cose può essere anche appunto attraverso la forma un modo di potenziare un concetto è chiaro che paragonarlo al cinema significherebbe un po' provare a capire in che modo lui intende vedere il cinema come poesia cosa vuol dire sono inquadrature che assumono significato in relazione a degli elementi in relazione tra di loro o in relazione a forma quindi il cortometraggio il mediometraggio non lo so è vero assolutamente che non dobbiamo pensare visto che la sceneggiatura è spesso se non sempre almeno nell'industria una prosa è un cioè d'altronde il trattamento è scrivi la sceneggiatura in modo romanzato e si può pensare che il cinema sia solo quello invece la scrittura cinematografica può essere molto di più lo storytelling di Maya Deren era uno storytelling basato sulla definizione delle immagini del montaggio e delle inquadrature proprio cinematografiche e non sulla storia all'interno si riferisce a questo per me viene da pensare anche che è un pochino un conflitto fra forma e contenuto per quanto riguarda il cinema perché per quanto la poesia abbia di per sé una forma e un contenuto per il cinema molte volte lo storytelling sembra essere quasi come il contenuto e se levi lo storytelling o meglio la narrazione dal film ti rimane solamente la forma ti rimangono solo belle immagini ma la potenza del cinema è anche quella nel mettere da parte la questione di narrazione e permetterti di immergerti all'interno di un mondo all'interno di alcune immagini che messe vicine un all'altro ti restituiscono qualcosa di molto più più forte ci sono un sacco di volte ora non mi vengono di preciso in mente però ci sono un sacco di volte che ho la sensazione di vedere figure retoriche poetiche all'interno del cinema tramite il montaggio cioè tipo lo smash cut a volte può essere tranquillamente una sorta di enjambemante e quindi sotto quel punto di vista secondo me è anche molto interessante questo discorso andiamo avanti con film is a mirror that reflects the details of the world life living our bodies eccetera il film film o pellicola non so cosa intende con film ma intende proprio l'opera ok quindi il film è uno specchio che riflette i dettagli del nostro mondo la vita il vivere i nostri corpi eccetera vedi è sempre lì è molto banale se ci pensi perché da studente di cinema vedere il cinema vedere l'opera cinematografica come lo specchio il famoso specchio argentato dello schermo di proiezione è sempre stato il nostro riflesso di condizione umana quindi appunto da studente mi sembra una cosa non banale però che già percepisco subito forse per scontato esatto chiaramente la riferisce su più punti di vista sia quando realizzi perché questa è una lista per i filmmaker quindi sia per quando realizzi il film e quindi si intende proprio che è la realtà dentro un sensore sostanzialmente o dentro la pellicola appunto dipende poi dal formato però tolto quello secondo me la più bella riflessione forse sull'idea di spettatore di cinema perché è importantissimo ricordare che quando si va al cinema ci si guarda sempre un po' allo specchio cioè secondo me è errato andare al cinema e provare a capire l'autore o che cosa voleva fare l'autore e poi quindi criticarlo giudicarlo sulla base delle sue intenzioni è importante andare al cinema per cercare se stessi nelle storie nei personaggi nelle vicende nelle emozioni e motivo per cui certi film ci piacciono e certi no a prescindere dalla qualità secondo me del film stesso e secondo me questa è la cosa più importante forse che lui intendeva poi non lo so glielo chiediamo sai sei invitato sai che ho visto una Days quando sono andato a vederlo al Beltrade l'ho visto con lui in videochiamata ah sì una delle esperienze più belle della verità un image much like life sometimes has meaning and sometimes doesn't that's what makes a film feel real oh hai capito Nolan quindi un'immagine un po' come la vita a volte ha significato a volte non ce l'ha questo è quello che rende un film vero o che ti fa sembrare un film vero ce lo condivido al 100% la cosa è che poi nei film diventa quasi un leitmotiv fra tutti gli autori no? cioè sembra sembra quasi qualcosa che ci percorre tutti proprio per l'insensatezza del tutto del non trovare un senso a determinate cose nella nostra vita e quindi vai a vedere un film che ne so di Simon Lang e cominci a domandarti ah ma quel determinato elemento che cosa significava vai a vedere un film di Paul Thomas Anderson e dici ah ma quel determinato elemento che cosa significava vai a vedere un film di Miyazaki è stessa cosa proprio perché diventa un leitmotiv che ci comprende tutti no? quando ho ripensato a Memoria di Happy Chat Pong su tante cose mi sono proprio fermato a dire sicuramente porsi la domanda aiuta a capire qualcosa del regista però porsi la domanda e non trovare una risposta dice tanto del cinema dice tanto dell'essere umano minchia devi farla tu la prossima lista cazzo sì è vero è vero assolutamente sì sono totalmente d'accordo adesso non bisogna prendere questo come un che ne so sto componendo un'inquadratura sto pensando a un film c'è una cosa che ho buttato dentro a cazzo vabbè la lascio perché tanto a volte hanno significato a volte meno secondo me quello che si intende è che il materiale la materia con cui lavora il cinema è la realtà persone personaggi ambienti luci la realtà no? semplicemente viene confinata nell'inquadratura quindi ci sono elementi della realtà che non controlliamo questi elementi vanno abbracciati non mi ricordo chi è l'autore perdonatemi perché questo è grave però al festival del cinema africano dell'anno scorso che aveva fatto un film in india e raccontava questo aneddoto io ho visto l'intervista nel senso che la stavano facendo i ragazzi l'ho vista da dietro e raccontava questo aneddoto in cui lui era in india stava facendo un'inquadratura voleva un'inquadratura dove il suo personaggio era al centro della strada e non c'era nessun intorno ma continuavano ad entrare persone dentro e lui li allontanava e continuava ad entrare li allontanava e continuava ad entrare e lui si arrabbiava a un certo punto è arrivato credo il fixer indiano ha detto ma perché ti arrabbi qui in india non c'è spazio la gente sta per strada fa parte proprio della realtà non puoi volere qualcosa che non c'è qui quindi sei tu che stai sbagliando perché tu stai chiedendo al cinema all'inquadratura qualcosa che non esiste qui la gente non ha spazio per stare perché sono tutti per strada quindi non puoi prenderti tutto il totale per mettere il tuo personaggio e la gente continuava ad entrare o le macchine passavano non si riusciva a bloccare la strada e lui ha capito che stava sbagliando perché in realtà doveva appunto aprirsi all'immagine e aprirsi appunto al fatto che a volte certe cose non le hai fatte con senso ma ci sono secondo me non è propriamente legato a questo ma è per dare l'idea che a volte ci sono elementi che bisogna accettare proprio perché non hanno il significato che noi cerchiamo ma anche perché poi se per vedere cosa interessano tanto magari agli studenti anche io cioè comunque rimango sempre colpito dalle storie delle grandi produzioni in cui alla fine sul film fatto dicono ah questa inquadratura quella determinata cosa all'interno non la volevamo è capitata e tutti oh mio dio è capitato tipo De Niro esatto a parte l'improvvisazione in quel caso proprio eventi che poi finiscono in camera senza tipo Tarantino lo fa spesso proprio perché secondo me sa che è molto cioè puoi marketizzarla molto come cosa no? tipo DiCaprio che si taglia la mano in Django tipo la chitarra che viene sfondata in Eight for Late no? oppure un'altra cosa che mi viene in mente è per i Coen Brothers in Barton Fink l'uccello che alla fine cade in acqua morto che dicono cioè non essere voluto semplicemente c'è il gabbiano che passava ed è morto cioè non so che è successo è caduto in acqua però sono cose che poi entusiasmano molto tutti quanti perché sono vere perché ti rendi conto che di quanto la casualità della vita finisca per essere potente se la vedi decontestualizzata no? se la vedi all'interno di un film non tipo io esco di casa e un piccione mi caca in testa cioè se succede all'interno del film che succede questa cosa al personaggio dico oh mio dio bellissimo perché rappresenta qualcosa di casuale come la vita the director being the one who yells action and cut must be aware of what they have captured in each take questo è molto si va sul sul pratico il regista che è colui che urla che urla perché yells proprio urla azione e cut ovvero stop deve sapere ciò che hanno girato all'interno di ogni take all'interno di ogni take sì anche se essere aware forse deve essere consapevole di quello che ha girato sì scusami infatti deve essere consapevole di quello che è stato girato principalmente di quello che hanno ripreso eh no è che sì non è ovvio che non si intenda deve essere lì sul set deve sapere cosa è stato girato ma si intende forse a livello di consapevolezza che è significato aver fatto quell'inquadratura aver fatto quella scena anche in un senso più esteso forse è un modo di dare responsabilità al regista in quanto regista e toglierlo a altre figure a cui spesso invece viene affidato questo compito come l'aiuto o il DOP cioè a cui viene detto sì fai tu l'immagine no perché appunto il regista diciamo deve avere l'idea dell'insieme non del singolo invece qui si dice no il take addirittura no non la scena l'inquadratura del take devi essere consapevole di cosa è girato quindi forse anche tipo che tipo di risposta hai avuto dagli attori dalla realtà se posso dire non so cioè nel senso non è sbagliato però nel mio essere la sento come una cosa non tanto superflua può essere non tanto superflua perché sicuramente è importantissimo soprattutto quanto si ha a che fare con gli attori ma nella mia percezione in regia posso dire a il DOP il un altro il regista di seconda unità l'assistente regista l'aiuto regia quello che vuoi posso dire io devo prendermi questo tempo per fare quest'altra cosa che per me è più importante per il film non mi vado a fare i cazzi miei gira questi dettagli che mi interessa avere tipo gli insert tipo i fegatelli eccetera eccetera dal punto di vista del sono più interessato a l'idea di quell'immagine per esempio un dettaglio è una persona che apre una porta ok sono più interessato a l'immagine che mi serve nell'ottica della narrazione nell'ottica di come deve funzionare il decoupage piuttosto che come viene aperta la porta quanto è veloce il movimento dell'apertura della porta che tipo di luce c'è dietro la porta eccetera eccetera tutte queste cose possono farle altre persone perché la cosa importante per me è avere quell'immagine piuttosto che nel suo particolare come è fatta quella immagine capito però non sto dicendo che è il modo in cui io la sento in questo modo perché per me la regia è anche sapere cosa ti interessa all'interno del film che stai facendo e non tanto micromaneggiare qualsiasi inquadratura come se fosse una sorta di sì come se fosse un'opera più piccola in cui hai il controllo di tutto esatto esatto cioè come se fosse ogni singola inquadratura un'opera esatto quella roba lì poi secondo me non sta negando quello che sto dicendo io perché essere aware essere cosciente di quello che è stato fatto significa anche sapere cosa volevi da quelle inquadrature quindi cosa hai detto quindi sai che hanno fatto quei take anche se non eri sul set quindi assolutamente però questo è un altro modo di viverla diciamo poi probabilmente sai non ha mai fatto il dettaglio della porta questo no no certo nel senso che lui ovviamente di natura non ha mai fatto questo tipo di di cosa quindi oh che bella the art of waiting waiting for a train to pass waiting for a flock of birds to arrive oh mamma mia questo è proprio commovente l'arte di aspettare aspettare un treno che passa aspettare uno stormo di uccelli che arriva penso che qui stia un po' il cuore di come mi piacerebbe davvero se dovessi in futuro avere la possibilità di farlo approcciarmi a un film di finzione a questo punto perché poi nel documentario è già intrinseco secondo me perché è tutto un'attesa all'evento invece nella finzione si pensa che deve essere tutto ai tre giorni l'attore è stato convocato tre giorni non puoi aspettare non puoi permetterlo quindi prevede anche una produzione diversa sicuramente rispetto al tradizionale però è vero quanto sarebbe triste far passare il treno quando vuoi tu sulle robe al posto che aspettarlo al posto che che poi in parte l'abbiamo anche vissuto noi e noi infatti stiamo pensando proprio a questo sì 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 è molto quel tipo di attesa secondo me nasconde una forza pazzesca perché siamo tutti in realtà concentrati proprio sulla realtà e non su sulle cazzate sulle cazzate tecniche sui dettagli che non non contano poi all'interno dell'opera ma avere un treno che passa davvero che contiene persone anche se poi non lo vedo nell'inquadratura ma lo sento essere un elemento di realtà che però non è sempre lì non è il paesaggio che rimane sempre lì su cui io posso giocare ma è un elemento che appunto arriva quando arriva come gli uccelli anche se degli uccelli in effetti vorrei chiederglielo come fai cioè passano in tutto il cielo quindi dove ti metti come lo prendi però forse anche qui può essere forse un'idea poetica di attesa però per me nasconde un po' vai dal vecchio e ti dice no di qua passano questi uccelli per andare nei posti più caldi si spostano ogni estate totto ora totto momento e tu sai quando effettivamente dovresti essere nel posto studi le scie migratorie degli uccelli per capire dove metterti boh non lo so secondo me è molto possibile ringrazio a Zai di questo stillness is not a complete lack of movement for time continues to pass second by second è fuori di testa questo uomo quindi stillness è lo stare fermi non so secondo me è più tipo l'immobilità l'immobilità non è una completa mancanza di movimento perché il tempo continua a passare secondo per secondo l'immagine movimento non è un'immagine che contiene del movimento è un'immagine che è in movimento perché è in relazione col tempo un po' quello che abbiamo detto non è un movimento fisico è un movimento temporale e infatti questa è la più grande verità peraltro una delle caratteristiche di questo cinema che lui fa è che ti riesce a travolgere proprio perché si affida al tempo e ti dà la possibilità di studiare di guardare l'inquadratura non di farti attraversare ma di poterla guardare osservare e anche di secondo me aiutare l'attore proprio perché nel momento in cui tu lo inquadri lo lasci fermo dai la possibilità a lui di entrare in uno stato quasi meditativo con cui poi può comunicare con gli occhi con noi abbiamo questa forte capacità di empatizzare subito con una persona e di capire subito quando una persona appunto sta fingendo sta provando emozioni la prima inquadratura di Days è il sottore feticio con cui ha fatto gran parte dei suoi film che è seduto su una sedia ripreso da fuori da una vetrata quindi si vedono i riflessi si vedono le cose lui è fermo immobile per diversi minuti e quell'inquadratura lì per me è un capolavoro ipnotica proprio perché in realtà stai chiedendo a una persona di fare l'opposto di quello che farebbe cioè di stare fermo in realtà inizi proprio a creare qualcosa di molto interessante secondo me in relazione allo sguardo dello spettatore ed è un modo molto intelligente di pensare al cinema non tutti i film possono essere così ovvio però in un mondo in cui è tutto ipercinetico in cui io apro TikTok e ho GTA 5 che fanno le rampe e sopra un'altra cosa di uno che sta con la pressa fa esplodere i confetti e poi ho il video di riferimento in alto a destra dove si muovono mille cose contemporaneamente su schermo qui è politicamente l'opposto ed è importante che ci sia ma anche perché lui parla di tempo però un'altra cosa importante da sapere sempre perché io la penso in continuazione un'inquadratura può essere ferma un montaggio può essere lento può esserci l'immobilità all'interno delle tue immagini ma nella mente dello spettatore non c'è mai quindi in realtà tu stai concedendo il tempo alle persone di scannerizzare l'immagine di immedesimarsi di pensare di ragionare e quindi di immergersi sempre di più nell'opera se è volente appunto non è una persona che guarda la roba la sabbia cinetica che viene tagliata su TikTok però sì c'è quindi c'è anche quell'idea di movimento il movimento del pensiero del ragionamento è tutto in movimento che bello everything everything everywhere no oh minchia che verità pazzesca a black screen is also an image an image that breathes lo schermo nero è un'immagine è anche un'immagine un'immagine che respira che respira sì non so cosa come commentare questa verità nel senso è vera io ho visto a Locarno questo documentario su Jonas Mekas su non era suo è un documentario su di lui che era composto da quello che mi ricordo comunque è stato il 2016 è passato un po' di tempo però da quello che ricordo era un documentario formato da due inquadrature ovvero l'intervista quindi il mezzo busto di Jonas Mekas che parla e uno schermo nero wow quindi c'era il film se non sbaglio cominciava con lo schermo nero quindi ogni tanto compariva lui che parlava ma la maggior parte del tempo era un lavoro sullo schermo nero sulla sua voce e su sound designing di determinate cose tipo lui che parla è la UR si sentono le bombe era tutto giocato sulla privazione delle immagini per quello che stavo dicendo poco fa permettere allo spettatore di astrarsi completamente da quello che stava avvenendo sullo schermo per entrare in una visione interiore in una visione mentale è tutta pornografia quella che cerchi di rincorrere quando vuoi fare qualcosa che con lo schermo nero faresti in maniera egregia immediata nel senso che tanti film vogliono essere estremamente violenti espliciti trucidi e a volte purtroppo andare in quel cesso lì aggiunge finzione quindi ti fa uscire dal film paradossalmente rispetto a uno schermo nero che ti racconta tutto quello che tu puoi immaginare no? e di solito se sei stato bravo a costruire il film non è che si va tanto fuori da quello che secondo me ti interessa quindi lo schermo nero è importantissimo ma anche rimanendo su cose più commerciali c'è il film su Van Gogh At Eternity's Gate di Julian Schnabel che è raccontato con questi schermi neri alternati che sono fantastici proprio perché sono in relazione alla pittura che invece è un'arte visiva e quindi è un'arte che vorresti mostrare dovresti mostrare quello che ti volevo proporre è di sceglierne un paio cioè ne scegliamo tre tipo a testa e facciamo quelle va bene cioè se le facciamo tutte ci sono altre tre pagine quanto c'è? vogliamo fare una per pagina a testa ok ci sta ah questo mi piace da morire è bellissimo anche perché è qualcosa che prima o poi dovrò trattare sia con me stesso che con tutti think of a location as a character pensa a una location come se fosse un personaggio sarà che sono affascinato dalle città sono affascinato dai luoghi night city no dai posti proprio quando vedo determinate location proprio naturali diciamo anche tipo per esempio la sila le montagne calabrese a me affascinano tantissimo proprio perché raccontano tanto in quello che sono oggi e quindi ogni volta mi viene da chiedere anche per le città no quando la prima volta che sono stato a Milano mi aveva fatto schifo la seconda ho cominciato a farmi un sacco di domande su Milano e ho trovato tutta una serie di argomenti e tematiche intrinseca alla città intrinseca alla vita all'interno della città che mi costringono a pensare se io mai dovessi fare creare scrivere dirigere quello che volete una storia ambientata a Milano tutti questi elementi dovrebbero far parte della storia perché se scegli una location se scegli un posto da raccontare è perché quel posto può parlare non serve che parlino i personaggi per loro non serve avere un personaggio che è una sorta di rappresentazione di avatar del posto della location i posti parlano a sé senza dover far parlare nessuno senza dover mettere un dialogo all'interno delle scene ambientate nella location questa roba per me è incredibile infatti volevo prima o poi non fare una lista ma cominciare a capire meglio quali sono stati i film che sono riusciti a raccontare le città i posti in maniera pregnante in modo che il posto diventi un personaggio non solo un backdrop uno sfondo secondo me è molto visibile da tutti quei film tipo Locke come si chiamava Baried e quant'altro che per quanto possano sembrare ad una prima visione brillanti proprio perché lavorano su una persona in una stanza o una persona in un luogo chiuso che è lo stesso per tutto il film c'era anche quello del tipo che era tutto alle comunicazioni sì sì l'abbiamo pure visto The Guilty The Guilty Mine ci sono tanti film come questi alcuni più usciti altri meno però purtroppo avranno sempre una mancanza secondo me che in realtà è la privazione di un qualcosa di vitale come appunto la location è bellissimo still life di Jasank letteralmente una location che sta scomparendo oggi non c'è più e la capacità di capire che quella è una cosa interessante ambientarci una storia che puoi ambientare solo adesso perché tra cinque anni un anno qualche mese la città sarà sparita perché sarà sommersa dalle acque che si stanno alzando è capire esattamente che il luogo avita tanto quanto i personaggi purtroppo le dovrei scegliere tutte ma sceglierò the script is not the film assolutamente d'accordo assolutamente vero purtroppo è triste nel senso che io comunque sono nella fase della mia vita in cui mi piacerebbe costruire un rapporto virtuoso con tutti quindi se coinvolgo uno sceneggiatore che mi fa un'ottima sceneggiatura mi sento sempre colpevole di distruggerla a un certo punto di abbandonarla o di mutarla in qualcos'altro perché un po' è camminare sul lavoro degli altri però purtroppo questa è la grande verità lo script è la diciamo la benzina con cui tu inizi il lavoro ma poi il lavoro deve essere libero di mutarsi di cambiare completamente rispetto a quelle che sono le indicazioni iniziali date dalla sceneggiatura questo vale in tutte le fasi tu puoi avere una sceneggiatura andare in ripresa e stravolgerla completamente o seguirla precisamente e stravolgerla in montaggio o con resciuto con quello che vogliamo se questo ovviamente comporta un netto potenziamento e miglioramento del film lo credo vivamente credo che la sceneggiatura sia purtroppo la cosa più sacrificabile in assoluto di un film di un processo filmico non puoi sacrificare la musica il suono il set il montaggio però la sceneggiatura sì io posso fare un film senza scriverlo io posso andare su un set a farlo quindi questa è una cosa ad esempio che gli studenti wannabe film makers e registi spesso sbagliano si cementificano sulla sceneggiatura quando sono in montaggio c'è una scena che non funziona hanno paura a tagliarla perché è mai scritta poi non si capisce questo poi non si capisce quello senza fidarsi delle immagini dello spettatore quindi lo script a volte purtroppo è un grosso limite secondo me al film sono d'accordissimo da che ero estremamente interessato al cinema scritto mi è passata completamente l'interesse anzi ogni volta che vedo la sceneggiatura all'interno del film mi annoio proprio noia perché vedo che è un regista che ha fatto il compitino piuttosto che creare qualcosa di nuovo però anche questo è un discorso che comunque prima o poi dovrò trattare assolutamente ovvero chi è l'autore del film dato che sembra esserci un resurgence un pochino di riattivazione di quella cellula per me terroristica della critica cinematografica che pensa che l'autore del film sia lo sceneggiatore quindi bisognerà prima o poi trattare questa cosa dai prendo prendo quell'annonso sugli attori faccio fare a te con gli attori dato che ti interessa di più scoring is non necessari in most circumstances che vuoi dire la colonna sonora a volte è non necessaria no in realtà dice non necessaria nelle maggior parte delle volte sì sì addirittura per lui cioè la maggior parte delle volte non serve non serve non serve metterci colonna sonora cosa ne pensi poi non penso colonna sonora in quanto soundtrack non in quanto sound design non musica digitica e quant'altro no certo esatto lo capisco è vero Oppenheimer no no è verissimo è possibile ma allo stesso tempo penso a tutti i momenti in cui la musica ha reso più grosso un film cioè penso a Leone ok cioè senza i trielli tutti i momenti epici senza la musica in Morricone sicuramente sarebbero potentissimi ma quanto aggiunge in più quindi anche se non è necessaria io piuttosto penso al contrario ovvero cos'altro può aggiungere poi è verissimo che ci sono tantissimi momenti di silenzio dove la musica non parla si sente sempre dire quanto fanno paura agli horror dove non c'è la musica e queste cose qui sì è verissimo però allo stesso tempo se ho l'opportunità di rendere ancora più potente le immagini facendole comunicare anche musicalmente perché perché la cosa è che poi la musica è bella quando sta facendo qualcosa di diverso dalle immagini quando va ad essere un'addizione al discorso che fanno le immagini poi ovviamente se sono accenti musicali che vanno sempre a sottolineare e ricalcare ovviamente possono essere buttati completamente sono d'accordo con Sai ma personalmente sono un grande amante delle belle colonne sonore quindi è negabile che l'amore che ho provato per Kitana e Miyazaki derivi probabilmente al 50% dalla musica di Joyce Eishi quindi mi viene un po' difficile darli contro adesso ma è vero che se penso diciamo alla totalità dei film che vengono realizzati tra commedie schifezze varie drammi hollywoodiani e quant'altro molto spesso è abusata per farmi piangere per farmi ridere quanto altro questo questo io ce l'ho questo ce l'ho lo sapevo ask actors to eat and sleep for real instead of acting it oh minchia che potenza quindi chiedi agli attori di mangiare e dormire veramente al posto che recitare quindi quella roba dell'insalatina e dei bocconi dove dentro non c'è niente in bocca o quelle cazzate in cui adesso devi far finito di svegliarti è già in piedi è già tutta l'energia che non esistono nella realtà mi dispiace sono forse tra gli elementi che più portano fuori lo spettatore dall'opera ma ancora di più a voler fare qualcosa che ha l'odore di realtà ha la forza della realtà perché ripetiamo comunque è la materia con cui il cinema gioca non c'è niente di più vero che fare davvero le azioni questo per me può essere portato su qualsiasi piano le scene di sesso le scene di violenza le scene di guida ti pare cocaina sì sì pararsi eroina nei limiti di quello che non ti danneggia fortemente però sì ci sono enormi esempi di persone che pippano davvero che consumano davvero alcolici droghe e quant'altro quindi se ti interessa fare quella cosa lì per davvero secondo me è importantissimo lui parla di mangiare e dormire perché paradossalmente un attore è più propenso a pippare davvero cocaina che a dormire davvero sul set questo perché richiede tante cose di nuovo mi dispiace citarlo di nuovo perché l'ho già fatto non voglio essere ridonante in Days c'è una bellissima scena di sesso e c'è una bellissima scena di sonno che sono vere e quindi sono è un'altra esperienza cinematografica rispetto a quella che potrebbe essere è proprio un'altra esperienza cinematografica io non posso che condividere pienamente questa cosa fai film a seconda di quali sono le tue disponibilità che si possono essere risorse anche cioè di materiali economiche quello è personale esatto di come tu vivi la cosa no questa roba è stupenda principalmente perché cioè io ho sempre voluto fare i film di genere quindi ho sempre pensato di dover avere questo questo e quell'altro di avere tutta una serie di cose che servivano per poter fare i film come li facevano ad Hollywood come li facevano in Italia negli anni settanta eccetera eccetera ma più vado avanti e più mi sono reso conto che a me piace fare i film grattando io so che ho poco e mi va bene quel poco e so che con quel poco posso ingegnarmi ed è la cosa che proprio amo del cinema posso ingegnarmi per fare quello che voglio esprimere cioè creare quello che voglio esprimere senza dover per forza avere la camera il crane il crane il carrello e tutte queste cose sì 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 ma non sono una persona che odia o detesta o rinnega gli aspetti tecnici del film sarebbe bellissimo poterli usare ma non c'è la possibilità ora come ora non ci sono i soldi non c'è una produzione stiamo facendo tutti in piccolo stiamo facendo tutti in casa creiamo c'è la possibilità di creare ma secondo me non è solo una questione di risorse materiali pratiche ma è anche una questione di come noi vogliamo affrontare le cose è una delle cose che più mi ha infastidito dei miei studi e delle mie prime esperienze in ambito sono stati tutte quelle persone che mi hanno detto eh ma il regista deve trattare male deve scavalcare quando può eh ma se devi ottenere qualcosa devi fare di tutto per ottenerla e non devi dormire prima il lavoro poi la famiglia se hai un amico che fa il direttore della fotografia che però non è tanto forte quanto questa persona che ti sta sul cazzo che è un direttore della fotografia più bravo tu devi scegliere comunque la persona più brava quindi devi lottare sempre con queste cose che sono cazzate sono cazzate punto poi uno può scegliere di farlo cazzi suoi io voglio vivere bene l'esperienza purtroppo gran parte delle esperienze che ho fatto non le ho vissute bene e quindi mi domandavo costantemente perché ed era perché io non sono adatto a quel tipo di lavoro quindi facciamo i film come li vogliamo fare noi punto poi questo vuol dire che non sarà esattamente goodfellas chi se ne fottere facciamo qualcosa che ci interessa secondo me oppure diamo anche vita a qualcosa che è nuovo anche di te facciamo così perché ce n'è una che you can also make a film with a crew of five che è più o meno esatto puoi fare un film con una troupe di cinque persone quindi la mettiamo dentro quella di prima perché è verissimo to eat and sleep well capolavoro mangiare e dormire bene che è un po' rientra anche questo in quello che abbiamo appena discusso perché è convinzione comune che se tu vuoi fare questo lavoro l'attore il regista il direttore la fotografia il produttore devi stare male ma andate a fare in culo no non devi stare male puoi farlo disteso quindi non in tre giorni devi fare un film puoi metterci una settimana due settimane un mese puoi metterci un anno a fare un corto un film un lungo un doc quello che vuoi perché nel mentre ti puoi permettere di mangiare bene quindi dedicare il giusto spazio ai bisogni primari della persona e dormire il giusto quelli che ho conosciuto appunto all'inizio del percorso che mi dicevano ma se vuoi fare il regista ti devi svegliare alle 5 del mattino lavorare fino a luna domenica compresa perché no andate a fare in culo poi cosa avete fatto alla fine avete fatto Stray Dogs avete fatto Days cioè i film più importanti in termini di art cinema degli ultimi anni no avete fatto la merda perché alla fine quello è perché ti devi impegnare tanto per poi fare la cagata che esce su Netflix che viene tanto vista nei primi nelle prime 36 ore ma puoi farlo ti devi impegnare tanto devi fare tutte queste cose qua ti devi svegliere presto devi lavorare tanto devi essere super produttivo a seconda di quelle che sono le leggi del consumismo del capitalismo e soprattutto della produttività degli oggi puoi decidere di stare a quelle regole ma stare a quelle regole non significa fare cinema lo stiamo capendo anche col podcast cioè non è una questione solo di cinema è una questione lavorativa in generale perché se vuoi fare qualcosa di bello devi stare bene e perché privarsi di bisogni primari fisici io sono stanco di persone che non dormono per lavorare ma che cazzo di senso ha non ha proprio senso soprattutto se sei come nella gran parte dei casi dei libri professionisti spesso appunto in grado di sceglierti gli orari di sceglierti i progetti un conto è capisco sei l'operatore di macchina ti convocano su sette alle sei del mattino ti convocano a mezzanotte perché c'è la scena notturna però qui sono filmmaker in senso più non di chi realizza prodotti non di chi appartiene all'industria ma di chi decide di avere un metodo per farlo quindi hai la tua partita non sei assunto che cazzo vuoi fai scegli le cose fallo bene non ammazzarti perché si può fare perché lo fanno un sacco semplicemente chi lo fa non ne parla perché non è interessante non è Elon Musk non vende libri esatto perché è un po' appunto ma guarda questo nulla facente che dorme al posto di lavorare sì dormo al posto di lavorare sono molto contento tra l'altro questo è un ottimo consiglio su cui chiudere perché ora ci andiamo a mangiare una bella pasta cosa facciamo una bella amatriciana amatriciana con conseguente riposino pomeridiano addirittura Gian sta plavendo non vedo l'ora di fare il riposino andiamo a riposare grazie a tutti